ehi tu si dico proprio a te no sto scherzando ragazzi non inizierò questo video così ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video allora oggi vorrei portarvi un po' la conoscenza di un sito internet che mi è stato molto utile che mi è molto utile in questo periodo e mi rivolgo a tutte quelle persone che hanno intenzione di acquistare una stampante 3d oppure che già la posseggono ma che non sanno disegnare o progettare in CAD e in 3d quindi ma perché vi dico questo perché ci sono dei siti internet che sono delle vere e proprie piattaforme dove gli utenti registrati possono caricare i loro progetti in 3d ed altri utenti possono scaricarli proprio per poterli stampare subito con la propria stampante 3d infatti ci sono anche riguardante al mondo dei ciao dei dei filtri più aperti oppure dei tappi di serbatoio delle mascherine per i fari insomma degli oggetti carini da stampare per iniziare a prendere dimestichezza proprio con queste stampanti quindi non perdiamo tempo e spostiamoci nel pc allora ragazzi eccoci nel pc non vi resta altro che entrare su google e scrivere thingiverse proprio come ho scritto io e cliccare sul primo sito questo è praticamente un portale uno fra i tanti diciamo quello più principale più famoso che contiene tutti i vari progetti che le persone caricano proprio su questo sito in questa piattaforma per poi poterli condividere quindi ognuno di voi potrà poi scegliere il proprio progetto e semplicemente stamparlo con la propria stampante 3d in alto qui nella barra centrale potete cercare quello che più ecco vi serve in questo caso mettiamo ciao piaggio date invio e vi compariranno tutti i progetti che riguardano appunto il mondo dei ciao non sono tantissimi però sono alcuni e sono anche interessanti ecco per esempio in alto a sinistra possiamo vedere questo bel filtro aperto naturalmente vi consiglio di iscrivervi a questo sito perché poi potrete tramite questo tasto più salvare i progetti che vi piacciono proprio per farvi la vostra cartella la vostra lista da cui poi potrete scaricarli allora se per esempio ci clicchiamo si aprirà il progetto vero e proprio qui ci sono varie immagini per esempio in questa centrale possiamo apprezzare proprio le componenti che andranno poi a formare il filtro mentre nell'immagine a destra possiamo vedere il filtro montato in questo caso è un filtro molto particolare che ecco io non andrei a provare però a chi piace ecco questo è questo filtro ecco per esempio e tra l'altro qui nella parte della descrizione da notare che è tutto scritto in inglese quindi potete fare poi tranquillamente la traduzione perché questo è un sito inglese a livello mondiale qui sono scritti alcuni suggerimenti come per esempio il filamento che potrete utilizzare qui per stamparlo qui c'è scritto PLA ora io consiglio il PETG che è un filamento più duro e più resistente agli idrocarburi comunque questo è uno dei tanti progetti un altro progetto interessante questo è un altro a destra che adesso ci clicchiamo che cos'è è un supporto per i blocchi motori come potrete vedere è molto interessante perché se avete un blocco motore da esporre in qualche modo in casa vostra in cameretta vostra o comunque dove volete in questo modo potete usare proprio questo questo sistema ma torniamo indietro e vediamo anche un altro qui eccoci c'è il filtro originale c'è qui a sinistra un porta jet un porta ciclè c'è la maschera per avere il bollo esposto come si faceva un tempo oppure c'è questo filtro questo per esempio lo reputo interessante un progetto un bel progetto ecco un filtro sicuramente molto più aperto dell'originale che si può aprire ci possiamo mettere la spugna dentro insomma ci sono delle cose interessanti quello originale va bene lo sappiamo lo conosciamo poi c'è questa mascherina che di solito ecco si usa metterla nel faro anteriore anche questa interessante questo è solo il progetto ma vediamo un po la mascherina stampata questo all'interno questo all'esterno devo dire che sì non è non è male magari questa è stata stampata un po forse a risoluzione non ottima però insomma è un'idea naturalmente il progetto è questo è ben fatto quindi poi il risultato di stampa quello dipenderà poi dalla vostra stampante da i vostri settaggi però è comunque un'idea valida ecco per da avere guardate per esempio qui c'è questo cassettino porta oggetti veramente particolare questo se non sbaglio è il ciao ultimo uno degli ultimi modelli se non sbaglio comunque particolare ecco un cassettino estraibile semplicemente fatto con la stampante 3d tra l'altro ora questo solo per darvi un suggerimento se scriviamo per esempio guida flussi vediamo invio ecco che ci sono anche alcuni guida flussi questo per esempio è della rd 350 ed ecco qua come si presenta questo guida flussi possiamo anche vedere nelle immagini seguenti come poi il programma di slicer lo lo posizionerà proprio per stamparlo comunque lo reputo un sito interessante vi potete salvare tutti i vostri progetti o caricarne dei vostri come vedete qui ci sono sempre tutte le istruzioni che consigliano infatti qui usano consigliano il petg che è quello che io consiglio per i filtri perché comunque è resistente all'idrocarburi quindi questo è il sito come avete potuto apprezzare veramente molto ben fatto semplice e insomma da tenere in considerazione per i vostri futuri progetti ed eccoci giunti alla fine di questo video come avete visto nel sito sono presenti veramente delle dei progetti particolari delle risorse utili comunque a cui accedervi per poter essere stampate in facilità quindi se siete indecisi sull'acquisto di una stampante 3d sicuramente è importante che vi formiate proprio per imparare a progettare in 3d però questo può essere un inizio ecco accedere a certe a certi progetti già creati da qualcun altro per poi poterli testare per poterli stampare con la propria stampante sicuramente non è una cattiva idea quindi per questo video è tutto mi raccomando iscrivetevi mettete un mi piace se volete abilitate la campanella delle notifiche e commentate per creare appunto una discussione perché a me interessa particolarmente insomma stuzzica la mia curiosità questo ambiente proprio 3d della stampa 3d delle macchine cnc a controllo numerico che stanno spopolando insomma in quest'ultimo periodo quindi mi raccomando iscrivete iscrivetevi e noi come sempre ci vediamo al prossimo video ciao